Ortaggi lessati e piante collassate. Dopo la siccità è questo l'ultimo allarme nelle campagne, legato al gran caldo di questi giorni. Le alte temperature lessano letteralmente gli ortaggi come i pomodori, per i quali Coldiretti stima un calo di produzione pari al 30%. Cambiamenti climatici e processi di desertificazione in atto presentano il conto prima agli agricoltori e poi ai consumatori, per i quali la minor produzione si traduce inevitabilmente in un aumento di prezzo del prodotto finale. In Abruzzo, dove la tradizione è tutta familiare di preparare le bottiglie di pomodoro si rinnova anno dopo anno, gli ortaggi rossi comunque non mancheranno. Giuseppe Scorrano, delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, siamo nel suo campo di pomodori perché lei è anche un produttore. Che cosa accade a questi pomodori? Il problema principale, come diceva, è dovuto al caldo che noi ci portiamo dietro da diversi mesi, da tutto il periodo primaverile, e dopo diversi mesi di caldo purtroppo anche le piante di pomodoro, così come anche altre verdure, tendono a cedere lentamente e a morire. Il cambiamento climatico, perché a questo punto si tratta proprio di questo, perché parliamo di un cambiamento, di un caldo eccessivo, ci sta portando davvero incontro a forti difficoltà. Abruzzo è una regione in cui davvero si continua a produrre salsa, bottiglie di pomodori. A livello familiare, questa che annata sarà? Dobbiamo preoccuparci? Noi vogliamo rassicurare sicuramente i consumatori perché il pomodoro è un pomodoro comunque di qualità. Noi facciamo questo ragionamento perché stiamo in un campo biologico, quindi non utilizziamo determinati trattamenti, però questo ci porta a maggiore difficoltà a produrre di più. Quindi il problema principale è sulla quantità di pomodoro che andiamo a produrre e non sulla qualità. Bisogna preoccuparsi per l'andamento del clima sicuramente. Noi ce la mettiamo tutta per portare comunque sulle tavole dei nostri clienti e consumatori un prodotto di altissima qualità. Però questa situazione è davvero difficoltosa. Noi subiamo costantemente aumenti di prezzo e è inevitabile che se uno vuole un pomodoro per ad Abruzzo di qualità, purtroppo potrà costare un pochettino di più. Ce ne sono vari di esempi come questo, cioè piante collassate, collassate per il caldo con pomodori lessati, come dicevamo prima. Una pianta come questa che sta inquadrando in questo momento Diego Martelli con la sua telecamera, che fine farà? Cioè si recupera in qualche modo oppure è destinata a finire così? Allora purtroppo non è difficile recuperarla. Questa pianta, diciamo la pianta di pomodoro per ad Abruzzo, potrebbe riuscire a produrre anche 7-8 kg di pomodoro per ogni pianta. In questo caso raccoglieremo la metà, quindi 3 kg di pomodori. Lei da produttore, che soluzione individua? È necessario spostarsi sull'agricoltura più di precisione, quindi cercare di adottare delle tecniche di coltivazione che puntino molto al risparmio dell'acqua e a una maggiore efficienza. Questo si ha attraverso un monitoraggio del campo, quindi riuscire a capire quali sono le aree magari più soggette a dei pericoli, dei rischi e lavorare molto sull'efficienza, l'innovazione tecnologica anche in agricoltura è fondamentale perché per fortuna ci sono degli strumenti che ci aiutano a combattere queste situazioni e dobbiamo insistere e anche agevolare, aiutare le aziende agricole, soprattutto quelle giovani, a fare questo tipo di investimento perché attraverso una buona agricoltura si riesce a combattere la desertificazione che sarà un problema che riguarderà anche la nostra Italia e il nostro Abruzzo nei prossimi anni.